Quest'anno noi facciamo parlare una compagnia di giovani che parlano dei giovani, giovani che sono stati rimessi al centro del dibattito proprio della disoccupazione, della trasformazione della nostra società dentro una crisi. Quindi gli facciamo raccontare il Jack Frusciante uscito dal gruppo, ma ad esempio c'è un altro gruppo di giovani, le officine per la scena, che parlano, mentre è successo che Paul McCartney compie 70 anni, dell'epopea degli otto anni dei Beatles, ma lo fanno con l'occhio di una generazione di ventenni. Adesso, io credo sia significativo il fatto che i gruppi che vanno sono gruppi che lavorano magari anche da vent'anni o sono più giovani, non sono conosciuti a livello internazionale, ma in alcuni di questi casi questi gruppi hanno fatto un lavoro di ricerca importante, io mi rifaccio ad Amnio Teatro, al Teatro del Sangro, che più o meno nella medesima situazione nostra sul loro territorio stanno facendo un lavoro capillare sui comuni. Bisogna capire, intendersi se incroci è il grande evento o veramente una politica di cultura diffusa sul territorio. Ecco, io credo che sia questa seconda cosa, cioè noi sempre, non è che ci siamo, come dire, opposti al grande evento, certe volte l'evento è molto importante, ma inseguire solo l'evento vuol dire dimenticare un lavoro costante e noi in 15 anni abbiamo fatto un lavoro costante sul territorio, io ricordo sempre che siamo un po' come quelle persone che stanno a controllare che i fiumi non esondino, che le strade siano ben tenute, eccetera, cioè siamo sempre stati sul territorio a cercare di capire le necessità, le sue trasformazioni, a portare qualcosa che aiutasse il territorio a crescere. E come dici tu, soprattutto abbiamo mantenuto la socializzazione, infatti ad esempio in un altro posto bellissimo che è simbolico di un certo territorio, di una certa storia del nostro paese e in particolar modo appunto della provincia di Torino, noi saremo a villaggio Leuman a Collegno, che è uno dei primi villaggi nati dalla cultura operaia. Faremo una grande festa popolare, perché anche questo è un momento necessario a tenere insieme nuclei sociali, tanto più appunto quando invece la crisi tende a disgregare, a dividere, a buttare nell'ansia le persone. Ecco, invece la socialità, la festa risponde a tutto questo da sempre e noi continueremo a farlo. Quindi insomma, in Croce è un appuntamento? È un appuntamento da non mancare anche nell'estate 2012. Mi viene in mente un luogo molto suggestivo, nella pancia della terra, una miniera, a Prali, scopriminiera, dove porteremo fra l'altro una storia di donne, una storia di streghe, tratta da un bellissimo romanzo di Sebastiano Vassalle. Cargo questo. Sì, col teatro Cargo, che viene da Genova e quindi anche qua gruppi locali, giovani formazioni, formazioni che vengono da altri territori, sono ospiti di questa nostra rassegna. Torino, il Piemonte, ha fatto un grande lavoro di recupero di comunità e di disgregazioni da recuperare. Via Artom era un territorio molto difficile per quanto riguarda la nostra città, è nato un altro modo di costruire socializzazione e cultura, ecco allora abbiamo trovato giusto che in Croci si incrociasse anche con quella realtà là. In Croci significa proprio questo, incrociare territori, culture, comunità e far sì che il teatro sia il collante di tutta questa faccenda. Questo credo sia questi 15 anni di matrimonio. Ed è importante anche ricordare che In Croci nasce comunque da una grande volontà di un'istituzione, che è la provincia di Torino, un'istituzione discussa, quella delle province, e quindi In Croci guarda anche a questo, alla trasformazione istituzionale, perché non crediamo appunto che nelle tante cose che accadono tutto sia da buttare, quindi ad esempio saremo anche a Cantalupa, come in altri luoghi, ma piglio questo come esempio, perché Cantalupa si è fatto capofila per quanto riguarda l'aggregazione di una serie di comuni del Pinerolese. Quindi anche questo ci sembra significativo, quando un comune assume delle responsabilità che vanno oltre la semplice gestione di un territorio, ma vanno verso anche un'idea della gestione di un insieme di territori che possono, facendo squadra, essere più forti. Allora, dobbiamo darci appuntamento dal 2 di luglio. Dal 2 di luglio. Partiamo da Macello, con il Faber Theater, che è una compagnia torinese della provincia di Torino, hanno sedia a Chivasso e poi... E poi proseguiamo per tutto il mese di luglio, agosto, settembre, arriviamo appunto all'inizio d'ottobre per salutare questa edizione del 2012. Quindi 4 mesi, ricchi di spettacoli, sono 12 gli appuntamenti, trovate tutto sul sito della provincia, sul sito di Teatro delle Forme e su quello di Assemblea Teatro. Direi che se anche non aveste il tappeto potete venire ugualmente a trovarci. Noi scendiamo così. Può essere un'idea, noi partiamo volando così.